Anche quest'anno il presepe è interamente commestibile, quindi usiamo la pasta frolla, la pasta sfoglia, usiamo anche la pasta fresca in aggiunta quest'anno, in più quando abbiamo deciso di usare degli elementi d'acqua, appunto per ricordare il tema principale dell'Explode 2015. Abbiamo creato lo stagno per le papere e qualche imperatoio per gli animali sotto la grotta del presepe. Dopo 16 anni torna come tradizione il nostro presepe alimentare e colgo l'occasione per apporgere un buon Natale, un felice anno nuovo. Tanti auguri a tutti, arrivederci.